Ecco la zuppa di asparagi appena pronta, si prepara in maniera molto veloce, basta far rosolare gli asparagi in olio extravergine d'oliva, poi si aggiunge più o meno mezzo litro d'acqua, anche tre quarti volento, poi si mettono verso la metà anche le uova. Si lascia cuocere almeno per diciamo 10-15 minuti, nel frattempo si mette del pane dentro questo grande piatto ecco, pane raffermo, addirittura indurito, una bella colata e siamo già pronti per gustare la zuppa di asparagi. Dimenticavo anche il pepe macinato fresco, quello ovviamente a grane, quello nero, va messo assolutamente.